Ti sei mai chiesto cosa sia successo nell'inchiesta sull'omicidio di Pierina Paganelli? Cosa potrebbero rivelare gli ultimi sviluppi? Prima di continuare, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e ad attivare la campanella delle notifiche per non perdere gli aggiornamenti futuri. Le indagini sull'omicidio di Pierina Paganelli sono in corso, gettando un'ombra di mistero su questa vicenda. Al momento non esiste alcun sospettato ufficiale, ma già gli inquirenti continuano a osservare quattro persone chiave in questo enigma che ha catturato l'attenzione di tutti. Loris e sua sorella Manuela Bianchi, parenti stretti di Pierina Paganelli, potrebbero detenere informazioni vitali in grado di gettare luce su questo mistero avvolto nel silenzio. La loro prossimità alla vittima li rende testimoni chiave in questa intricata vicenda. Scopriamo come il legame familiare potrebbe svelare dettagli cruciali nella ricerca della verità. Valeria Bartolucci e Luis, una coppia di coniugi che condivide lo stesso pianerottolo con Pierina Paganelli e Manuela Bianchi, sono coinvolti in questa vicenda che si sta sempre più complicando. Valeria è stata sottoposta a un duro interrogatorio durato quattro ore nella questura di Rimini, nel secondo di una serie di colloqui con Gili e investigatori. Durante l'interrogatorio, le domande sembrano essersi concentrate sulla relazione tra Luis, suo marito e Manuela. Scopriamo come questo interludio relazionale potrebbe gettare nuova luce sull'intera indagine. Cosa ne pensate di questo sviluppo? Avete qualche teoria o commento su questa intricata vicenda? Vi invito a condividere le vostre opinioni nei commenti qui sotto. Valeria Bartolucci ha fatto un'affermazione audace durante un'intervista andata in onda su quarto grado. Ha ribadito con fermezza la sua innocenza, nonostante il forte sospetto che la circondi. Valeria ha enfatizzato che il fatto di avere una relazione extraconiugale non rende suo marito, Luis, capace di commettere un delitto così orribile. Ha dichiarato di conoscerlo profondamente e di avere una fiducia incrollabile in lui. Esamineremo l'intervista e le sue dichiarazioni, cercando di gettare luce su questa controversia. Grazie per aver seguito questo aggiornamento. Se desiderate rimanere sempre aggiornati sulle notizie più recenti, vi preghiamo di iscrivervi al nostro canale Notizie Live Stream e di attivare la campanella delle notifiche. Valeria Bartolucci ha fornito un dettagliato alibi per la sera del 3 ottobre, il giorno dell'omicidio di Pierina Paganelli. Afferma che lei e suo marito erano a casa, avevano cenato insieme e guardato un film su Netflix. Successivamente ciascuno si era ritirato nella propria stanza per la notte. Questa ricostruzione della serata solleva una serie di domande. È un alibi a prova di bomba o potrebbe essere un inganno ben orchestrato? Analizzeremo attentamente l'alibi di Valeria per cercare di comprendere se può realmente scagionare la coppia o se nasconde segreti più oscuri. Il mistero su questo omicidio continua a svelarsi e rimaniamo impegnati a tenervi informati su qualsiasi sviluppo in questa storia. Vi invitiamo a rimanere connessi con Notizie Live Stream per le ultime notizie. Grazie. Grazie.